Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del fatto del giorno tra le riforme del piano strutturale di bilancio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato ieri in audizione alla commissione bilancio di Camera e Senato la volontà di rivedere al rialzo i valori catastali per chi ha usufruito del super bonus e di altri bonus edilizi. In particolar modo il ministro dell'economia ha definito la necessità di aggiornare gli archivi catastali per tutte quelle proprietà fantasma non censite e quelle ristrutturate che hanno aumentato, ha portato dei miglioramenti alle strutture. In particolar modo già l'Unione Europea ha voluto una revisione, voleva una revisione dei valori catastali dal 2013 ad oggi per un'equa redistribuzione delle quote fiscali sui valori catastali. Per Giorgetti si tratta di una novità che congrua ad avere realismo e prudenza sui conti pubblici per la futura legge di bilancio. Le parole di Giorgetti hanno scatenato le opposizioni per le quali è una notizia dirompente, non in linea con la maggioranza. Confedilizia ritiene che la revisione sia normale, coerente anche il pensiero della Lega che ritiene che non ci sarà alcuna stangata. Vi ricordiamo che questa è l'ultima edizione del Fatto del Giorno per il Bienio 2022-2024 e vi ringraziamo per averci seguito.